Eccole qui, ne ho trovato un altro, qui c'è un altro di questi manichini a dirigere i lavori stradali perché c'è un cantiere, qui ce n'è uno finto e lì ce n'è uno vero, perché il sindacato si è opposto e ha stabilito che per ogni omino finto ce ne deve essere almeno uno vero, questo per garantire anche una certa stabilità sociale. Qui abbiamo un sindacato di categoria molto forte, si oppone all'uso dei manichini nella cantieristica stradale, tuttavia il manichino è stato appurato che lavora molto di più della gente del posto, è instancabile per cui grande stacanovista e si è imprenditori, sono molto propensi all'uso di questi manichini anche perché come vedete questo sta lavorando, Adesso se vado ad inquadrare quelli invece in carne e ossa, questi qui non stanno facendo nulla, questo è anche il motivo per cui sono sempre più usati questi manichini qui in Malesia e questo è anche un sistema che vorrebbe anche essere esportato in Italia. C'è anche questa intenzione, questa proposta, utilizzare in alcuni ambiti di lavoro, utilizzare dei manichini perché sono molto più effettivi, lavorano 24 ore al giorno, rendono tantissimo, non fanno pause. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima.